Niente acqua nella giornata del 16 marzo per alcune zone cittadine. Caltacqua infatti comunica che non viene garantita la distribuzione nelle zone sanatorio Firrio Santo Spirito, Villaggio Santa Barbara, a causa di una riduzione della fornitura al serbatoio San Giuliano, rimanendo però attiva la fornitura dell'acquedotto Madoni Est. Un provvedimento preso a seguito della nota di Siciliacque, in cui si dava comunicazione dell'interruzione delle ore 8 del 16 marzo del 2022 e dell'esercizio dell'acquedotto Ancipa Abbasso, per eseguire un intervento urgente di riparazione incontrata a Santa Caterina nel territorio di Enna. Non si prevedono gli servizi invece nel comune di Mazzarino e Riesi, sempre secondo la nota di Caltacqua, grazie alle proprie fonti, mentre fino alla ripresa delle forniture da parte di Siciliacque, anche nelle zone balneari del comune di Butera, Desusino, Falconare e Tenutella, non sarà possibile effettuare la distribuzione.